La nuova Megane è dotata di climatizzazione automatica. È possibile scegliere uno dei tre programmi disponibili, soft, normal e fast. È quindi possibile mitigare, ottimizzare o accentuare le prestazioni del sistema per ottenere il livello di comfort desiderato, oppure regolare in modo indipendente i lati sinistro e o destro del vano abitacolo. La funzione Visibilità consente di sbrinare e disappannare velocemente il parabrezza, il lunotto, i vetri laterali e i retrovisori esterni. Per garantire la migliore qualità dell'aria all'interno del vano abitacolo è disponibile un sistema che esamina costantemente la qualità dell'aria esterna al veicolo, che, se necessario, attiva automaticamente la modalità di ricircolo dell'aria. La funzione Deodorante riduce gli odori sgradevoli nel vano abitacolo. Questa funzione è temporizzata e si arresta automaticamente dopo alcuni minuti.